Ben trovato con un nuovo appuntamento con Epovaldo Talk. Stasera abbiamo deciso di parlare di Covid-19 Italia Help. È un progetto no profit gestito da civic hacker e volontari in questo periodo di coronavirus. Andiamo subito a presentare i nostri office di questa sera. Salutiamo Cristina Galasso. Buonasera Cristina. Buonasera a tutti voi. Grazie. Cristina lavora all'ufficio comunicazione del CESBOT. È un'attivista nel mondo della comunicazione digitale no profit e appunto partecipa come attivista volontaria a questo progetto Covid-19 Italia Help che andremo a conoscere ora nel corso di questa puntata. Saluto invece il ritorno di Susanna Bagnoli. Buonasera Susanna della nostra redazione dell'Empovaldo giornalista per molti anni in consiglio regionale freelance specializzata nella stampa al femminile che tra l'altro è il nostro contatto con Cristina. Allora Cristina siamo in un momento di emergenza siamo tutti disorientati è un momento difficile in un momento in cui anche le fake news imperversano e quindi voi che già eravate partiti poi ci direi come siete partiti già da qualche anno con altri eventi catastrofici brutti successi in Italia voi avete deciso di dare vita a questa piattaforma che aggrega tra l'altro le notizie le rende consultabili ed è anche una piattaforma di utilità ma nello specifico ci dici in cosa consiste questo progetto come è nato come funziona quanti siete ce lo riassumi? Sì ci proverò brevemente. Allora noi il progetto covid19italia.help nasce intorno all'otto marzo quindi subito all'inizio del lockdown e siamo appunto un gruppo di attivisti di volontari sparsi in tutta Italia che proprio perché eravamo anche chiusi in casa abbiamo deciso di attivarci da casa utilizzando le nuove tecnologie in particolar modo le tecnologie digitali. Infatti poi alla fine il civic hacking vuol dire questo vuol dire attivarsi in un impegno civico cioè nella soluzione di problemi che riguardano la collettività quindi anche in un'emergenza usando le tecnologie informatiche e digitali e quindi cercando di usarle al meglio con creatività alla ricerca di soluzioni e noi abbiamo pensato di attivare questo progetto che il cuore è la piattaforma appunto online eh dal quella è online dal dal 10 di marzo eh e poi con tutti i social che che possiamo usare quindi siamo su Twitter, su Facebook, su Instagram ehm e usiamo i social per ascoltare quello che succede intorno all'emergenza per raccogliere segnalazioni che ci vengono da tante fonti cittadini, associazioni, enti pubblici e raccogliamo segnalazioni che sono soprattutto eh segnalazioni di eh informazioni utili, di pubblica utilità, eh di normative, di servizi solidali che si svolgono sul territorio a livello nazionale e in particolar modo nelle aree più colpite dal dal coronavirus cioè nel nel nord Italia e e e poi raccogliamo anche richieste di aiuto quindi scuole, enti, associazioni che hanno bisogno ad esempio non so di computer, tablet per la didattica a distanza oppure che hanno bisogno della spesa a domicilio. Quindi noi riceviamo queste segnalazioni e le tra virgolette le processiamo e andiamo a verificare talvolta anche con delle verifiche personali quindi contattando al telefono per email le persone che ci propongono la segnalazione oppure con una consultazione che facciamo eh sul web e una volta che le abbiamo verificate eh le processiamo e le pubblichiamo sul sito e poi in automatico alcune eh quelle che riteniamo più importanti e più utili vengono mandate in modo automatico e qui è la tecnologia che ci aiuta in modo automatico a quello che noi chiamiamo il bollettino che è una sorta di di instant news che viene mandata in eh sui principali social in particolar modo sul canale telegram e sul canale eh twitter e e quindi possiamo diciamo continuamente eh alimentare questi canali con informazioni fresche ecco eh ovviamente le nostre informazioni non sono le informazioni che si trovano tendenzialmente sui media, sui grandi media, sono informazioni che circolano soprattutto sul web, sui social e anche attraverso il tam tam delle persone eh sul territorio. Quindi noi ci poniamo come una sorta di di piattaforma di incontro fra le richieste di aiuto e le offerte di aiuto e poi di informazioni verificate sull'emergenza. Abbiamo anche una sezione dedicata alle fake news e e colleghiamo appunto cioè cerchiamo di verificare le notizie, di pubblicare le smentite e quindi è una sezione a cui teniamo molto perché in tutte le emergenze è un problema quella della diffusione di notizie false, di bufale, ma in questa emergenza sanitaria in particolar modo, visto che c'è a rischio la salute eh di tutti di tutti noi. Allora intanto abbiamo visto il saluto di Matteo Tempestini. Ah è passato Matteo Tempestini, ecco sì. Infatti Matteo Tempestini e Matteo Fortini sono poi i due fondatori, i due ideatori del progetto prima Terremoto Centro Italia e poi Covid-19 Italia.elp. Quindi benvenuto Matteo. Ciao. L'altro è pratese, quindi è un toscano come noi. Ok, vai Susanna. Sì, allora, quindi una piattaforma per ricevere informazioni, per trovare informazioni, una piattaforma anche per fare segnalazioni. Ci hai un po' spiegato ecco di cosa si tratta, magari puoi essere un po' più specifica Cristina, soprattutto ecco sul fronte magari delle segnalazioni, cioè il cittadino comune, che tipo di segnalazione può farvi, in che modo, come può farlo, come si, come vi trova ecco. Sì, allora il cittadino comune può farci segnalazioni in due modi, o attraverso la nostra web form, cioè c'è un modulo online sul nostro sito, diviso per categorie, quindi se vuole segnalare un'iniziativa solidale compila una form che è molto semplice, con un titolo, una breve descrizione e un link, oppure se vuole segnalare, non so, una consegna a domicilio, di spesa e farmaci, o vuole inoltrare invece una richiesta di aiuto specifica, vuole segnalare una fake news, oppure anche un documento ufficiale, ad esempio un'ordinanza regionale, comunale, ovviamente tutto quello che può essere considerato di pubblica utilità trova più o meno una corrispondenza della nostra form online. Oppure può semplicemente andare nel nostro gruppo Facebook e lì fare un post, oppure mandarci un tweet, fare un post su Instagram, insomma le modalità, oppure con l'email, quella più semplice. E poi abbiamo anche il canale Telegram. Poi tra di noi, tra i volontari e coloro che ci seguono più da vicino, abbiamo sia una chat su Telegram che anche una chat su Slack. Aspetta, tanti canali. Sì, diciamo che secondo noi la forza poi del progetto è riuscire a essere su più piattaforme e riuscire quindi a intercettare i bisogni e anche le offerte di aiuto laddove poi si diffondono, quindi sui social innanzitutto. Questo l'avevamo già sperimentato con Terremoto Centro Italia, ma a maggior ragione con questa nuova emergenza, visto che siamo tutti costretti a casa e le tecnologie sono veramente di grande aiuto. È l'unico strumento che ci aiuta a tenerci insieme, no? A comunicare l'un con l'altro. È vero, anche noi in questo momento siamo su una piattaforma. Per quanto riguarda le aziende, anche le aziende possono fare riferimento direttamente alla vostra piattaforma? Ci sono esempi di aziende che si fanno vive con voi per segnalare beni e servizi di utilità che possono essere messi a disposizione? Sì, sì, assolutamente. Noi abbiamo addirittura nella form un modulo proprio dedicato al sostegno al lavoro e alle imprese, quindi lì ad esempio noi pubblichiamo tutte le segnalazioni che possono essere di aiuto alle imprese e al lavoro, quindi di sostegno ma anche di progetti e riceviamo anche tante segnalazioni dalle imprese. Ad esempio quando c'è stata la grande emergenza delle maschere per la respirazione nelle terapie intensive abbiamo avuto tanti contatti con piccole e grandi imprese che si proponevano per produrle, soprattutto tra gli stampatori in 3D, perché appunto c'era stato tutto quel bel progetto nato a Brescia del modificare le maschere dei Decathlon, maschere subacquee e tanti stampatori ci hanno contattato per rendersi disponibili e quindi attraverso la piattaforma e i nostri canali social abbiamo messo a disposizione tutte le informazioni delle imprese che in tutta Italia si mettevano a disposizione per la produzione e in tanti sono riusciti a contattare attraverso di noi anche gli ospedali, i reparti Covid e quindi ad attivarsi, cioè noi funzioniamo come una sorta di facilitatori, cercando di promuovere quello che è l'incontro, perché a volte si ha l'offerta di aiuto e la richiesta ma non si riesce a trovare lo spazio dove incontrarsi. E allora ecco noi cerchiamo di promuovere il più possibile sui social questa piattaforma perché è lì lo spazio aperto di incontro, aperto in tutti i sensi perché appunto è una piattaforma tra l'altro open data, quindi tutti i dati sono aperti, trasparenti e tutte le segnalazioni l'utente le può seguire fin da quando arrivano e nel momento in cui le processiamo, le verifichiamo, le pubblichiamo sulla piattaforma GitHub che anche questa è una piattaforma aperta, che è la piattaforma sulla quale gira il nostro sito. Ok, allora ci hai già raccontato, hai parlato delle mascherine realizzate con appunto materiale di Decathlon, ne hanno parlato anche i telegiornali, però hai qualche storia bella da raccontarci andata a buon fine, ad esempio qualcosa che è stato esaurito, se hai qualche storia da raccontarci? Sì, ad esempio ci aveva contattato l'ospedale Mondino di Pavia che aveva aperto un reparto Covid e avevano bisogno di tablet per i pazienti, anche questa è una grande richiesta che riceviamo ormai da settimane, appunto il tablet che aiuta il paziente che è in terapia intensiva o anche nel reparto diciamo di media intensità a comunicare con i propri familiari e ovviamente gli ospedali fino a questa emergenza non avevano assolutamente in dotazione tablet, computer o smartphone per fare questo tipo di attività e quindi l'ospedale Pavia si è rivolto a noi, noi abbiamo promosso la richiesta attraverso anche un tweet bombing che abbiamo fatto con le principali aziende tecnologiche di comunicazione digitale in Italia e alla fine nel giro di un paio di giorni ci ha risposto Wind tra l'altro e ha donato 20 tablet al reparto Covid di Pavia e questo con un tweet bombing, ovviamente Wind ha andato alla segnalazione, ha trovato tutti i riferimenti, c'era il numero di telefono della responsabile della comunicazione dell'ospedale, ha potuto verificare immediatamente con una chiamata la veridicità della richiesta e la disponibilità e quindi nel giro di pochi giorni ha fatto arrivare 20 tablet ai pazienti ricoverati a Pavia. Un'altra richiesta che abbiamo avuto dal comune di Iesi che aveva un po' di studenti delle scuole medie e superiori che non avevano disponibilità di computer e tablet per la didattica a distanza e quindi si voleva attivare per farglieli avere. Anche lì siamo riusciti a promuovere questa segnalazione anche grazie al supporto in questo caso di ActionAid e ci ha risposto Amazon che appunto ha fornito al comune di Iesi tablet e computer per i ragazzini che non riuscivano altrimenti a seguire le lezioni a casa. Ecco quindi in realtà con la mobilitazione attraverso il web, ovviamente però facilitando il fatto che immediatamente chi può offrire aiuto può verificare immediatamente con un click che la segnalazione è corretta, può chiamare la persona, informarsi in prima persona sulla veridicità della richiesta, quindi è anche questo che aiuta secondo me a risolvere le richieste di aiuto. E poi sicuramente quando si ha a che fare con un'emergenza c'è molta attenzione a cercare di aiutare anche chi ti sta lontano, però a dare una mano in qualche modo. Noi chiediamo anche semplicemente quando si lanciano i tweet bombing a chi ci segue di aiutarci con un retweet. A volte anche un semplice retweet o un tweet può fare la differenza. Allora perché prima che la Susanna faccia la prossima domanda diciamolo, tweet bombing è un bombardamento di tweet di fatto. Ah sì 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 sì. E vuol dire mandare tweet alle aziende o alla persona. Ora noi lo facciamo in una maniera non così invasiva da creare problemi al profilo insomma Twitter. È un modo per farsi sentire, per farsi ascoltare. E devo dire che tendenzialmente ci rispondono tutti o segnalandoci un contatto o comunque accolgono la nostra richiesta e in qualche modo cercano di gestirla. E questo è già è già molto insomma. Vai Susanna. Dicevamo nella parte introduttiva che questa piattaforma, questa esperienza adesso relativa al Covid-19 nasce da una precedente esperienza che si è chiamata Terremoto Centro. Una precedente piattaforma nata nell'agosto del 2016 con le scosse di terremoto devastanti nel centro Italia. Ci aiuti a capire Cristina che cosa è stato Terremoto Centro per chi non ha conosciuto quell'esperienza e in che senso appunto poi adesso siamo arrivati a questa piattaforma invece in questo in questo momento. Però volevo appunto tu ci ricordassi che cos'è Terremoto Centro Italia, che cosa è stato e se è ancora una piattaforma attiva? Sì, Terremoto Centro Italia è la base dalla quale poi è nato anche Covid-19 Italia.help. Sia da un punto di vista della struttura, del sistema, quindi dell'infrastruttura tecnologica che usiamo e anche il sistema di comunicazione, sia anche per il gruppo di volontari attivisti. Cioè la gran parte dei volontari attivisti che era in Terremoto Centro Italia è anche in Covid-19 Italia.help. E anche il supporto di Action Aid che noi abbiamo come Covid-19 Italia.help viene anche da quell'esperienza di Terremoto Centro Italia. Appunto noi siamo nati allora fino agosto del 2016 a supporto delle popolazioni colpite dal terremoto che è stato un terremoto che aveva colpito quattro regioni, quindi c'era un cratere grandissimo di 140 comuni e una popolazione che davvero si è ritrovata dall'oggi al domani senza nulla, senza una casa con la protezione civile che si stava attivando e però c'era bisogno di tutto, c'era bisogno di tante cose. Poi c'è stata anche una seconda scossa alla fine di ottobre, poi la neve a gennaio e noi con la nostra piattaforma e con i nostri canali solo abbiamo cercato di supportare la popolazione e anche lì creare uno spazio di incontro fra domanda di aiuto e offerte di aiuto. In quell'occasione c'era stato un aiuto fondamentale da parte dei volontari di Action Aid che erano sul territorio, quindi interagivano personalmente con la protezione civile e con le popolazioni colpite dal terremoto e ci aiutavano in un flusso di informazioni a far arrivare più rapidamente e in maniera più efficace le informazioni alla piattaforma. Questa cosa ovviamente è mancata in Covid-19 Italia.help, nel senso che l'agibilità sul territorio è ovviamente limitata dalle misure anticontagio, quindi abbiamo cercato di attivarci stringendo delle relazioni più forti con le associazioni e gli enti locali, perché erano gli unici che avevano una presenza e conoscevano il territorio. Con il terremoto Centro Italia abbiamo messo a punto tutto il sistema e la struttura e la piattaforma è ancora attiva, ci potete andare, ovviamente non riceve più segnalazioni ormai da circa un anno e mezzo, però sui canali social noi continuiamo a informare chi ci segue su quello che è ancora un'emergenza in Italia, l'emergenza ricostruzione, perché lo sappiamo che purtroppo la ricostruzione è rimasta ancora lì e quindi supportiamo le popolazioni colpite dal terremoto attraverso i nostri canali social, garantendo un flusso comunque informativo, perché poi lo sappiamo i media hanno spento un po' i riflettori su questa emergenza, ma in realtà le popolazioni hanno ancora bisogno di aiuto per tenere alta l'attenzione, quindi noi cerchiamo nel nostro piccolo, avendo già stabilito delle relazioni anche importanti sul territorio, anche lì abbiamo aiutato piccoli comuni, scuole, associazioni nella ricostruzione, ricordo che al tempo c'era tanto bisogno di roulotte e camper, quindi noi abbiamo aiutato, c'era un'associazione del nord Italia che aiutava a trasportare roulotte e camper per donarle alle popolazioni colpite dal terremoto e quindi noi abbiamo facilitato questo flusso, abbiamo promosso l'incontro, le domande e offerte di roulotte e veramente si parla di decine e decine di roulotte che siamo riusciti a far arrivare nel centro Italia, ecco questa era un'altra, anche lì attraverso l'uso dei social, attraverso la nostra piattaforma e anche con l'aiuto di associazioni e volontari sul territorio. Allora, io volevo tornare su una cosa, volevi aggiungere qualcosa Susanna? No. Vai. Allora, no, volevo tornare su quella che poi è la vostra definizione, no? Covid-19 Italia.help è un progetto di civic hacking, ma lo vogliamo spiegare che cosa sono gli hacker, o se l'ho pronunciato bene, spero, civici? Sì, niente così complicato come possa far pensare il termine inglese. È una forma di attivismo, appunto, che si impegna alla risoluzione di problemi che ci riguardano tutti, ad esempio in caso di emergenza, usando le tecnologie digitali e informatiche. Quindi un civic hacking deve avere una formazione, diciamo, nell'ambito degli strumenti digitali e informatici, però non è detto. Ad esempio, io ci capisco ben poco di programmazioni, di sviluppo, di siti, e quindi faccio il mio piccolo pezzettino, soprattutto nel social team, nel processare le segnalazioni, nel verificarle quando arrivano attraverso la piattaforma GitHub. Però è un mondo dove si può imparare moltissimo sull'uso delle tecnologie aperte, in particolar modo open data, e su come la tecnologia possa essere davvero di grande servizio a tutti. Quindi, cioè, è ovvio che noi abbiamo un team che è fatto da un gruppo di sviluppatori, di informatici, di ingegneri, che quindi hanno proprio le mani in pasta dentro la piattaforma, dentro il linguaggio di sviluppo del sito. Però poi abbiamo anche persone che, diciamo, hanno più competenze dell'ambito della comunicazione, della comunicazione digitale, dei social, e anche persone comuni che semplicemente si sono messe lì con un pochino di autoformazione che abbiamo fatto al nostro interno, hanno imparato a gestire le segnalazioni su GitHub, che è una piattaforma che usano soprattutto gli sviluppatori, ma che in realtà ha grandissime risorse, e quindi con un pochino di applicazione e di impegno si può imparare ad usarla, ed è veramente molto molto utile. E ripeto, poi appunto è una piattaforma aperta, e quindi chiunque la può seguire tutto il lavoro. Quindi non è niente di davvero complicato, è una forma di attivismo, e la tecnologia è ovviamente uno strumento per andare ad attivarsi e a risolvere situazioni problematiche. Ecco, il tuo ruolo Cristina, nello specifico qual è all'interno di questo gruppo di attivisti digitali in questo momento per questa piattaforma? E poi magari se riusciamo a dare qualche indicazione a chi ci sta ascoltando e vuole provare a mettersi a disposizione, aderire insomma al progetto e diventare appunto parte del vostro team, quali competenze di base possono essere richieste e come fa ad aderire, a segnalarsi, insomma? Sì, io comunque come ho detto prima, faccio parte in particolar modo del gruppo media e del gruppo editors, cioè quindi coloro che prendono in carico le segnalazioni e le controllano, sistemano il testo, i titoli, mettono le varie etichettature, eccetera. E poi mi occupo dei social, in particolar modo di Twitter. Il progetto è aperto a chiunque voglia impegnarsi a favore, a sostegno dell'emergenza da Covid-19. Quindi se ci sono delle competenze, bene, ma se non ci sono non importa, l'importante è che ci sia la volontà e l'impegno a fare e a mobilitarsi. Poi noi ovviamente facciamo una formazione interna, abbiamo delle linee guida, abbiamo delle policy che sono pubbliche, pubblicate sul sito e quindi chiunque può vedere in che modo lavoriamo, che tipo di competenze servono, che strumenti usiamo. Quindi davvero in poco tempo si può diventare un attivista di Covid-19 Italia.help e portare il proprio aiuto. Non è certo la tecnologia che ci deve fermare, ma anzi ci deve aiutare. Noi abbiamo bisogno, in particolar modo di sviluppatori, perché la piattaforma è una piattaforma comunque complessa. Noi siamo adesso a oltre 2000 segnalazioni aperte e 500 chiuse. Quindi capite che nel giro di due mesi abbiamo processato 2500 segnalazioni. Quindi il gruppo di editor, ne siamo una decina di editor, poi siamo un'altra decina di sviluppatori e un 5-6 invece del gruppo media. Poi abbiamo anche tutti dei volontari che si attivano se serve aiuto. Quindi se abbiamo un volume alto di segnalazioni che arrivano, ad esempio quando c'è stato tutto il discorso delle consegne a domicilio, arrivavano un sacco di segnalazioni, sia di richieste di aiuto che di offerte, cioè che segnalavano che quel negozio, che quel comune faceva le consegne a domicilio di spese e farmaci, allora altri sono venuti in supporto. Quindi noi siamo una trentina stabili e poi abbiamo, e lo si può vedere dal nostro canale, dal gruppo Telegram, abbiamo un'ottantina di persone iscritte, quindi che si possono attivitare a attivare al bisogno e che sanno più o meno quello che possono fare. Quindi io invito chiunque abbia voglia di dare una mano e anche di introdursi in questo, in un mondo che forse può essere nuovo, anche un po' considerato un po' lontano, di andare sulla piattaforma, leggersi ovviamente quali sono le nostre linee guida, come operiamo e poi di contattarci attraverso i nostri social, la cosa più semplice forse attraverso il gruppo Telegram o attraverso Slack e mettersi a disposizione, dicendo quello che si vuole fare e quello che si può fare. Non lo diciamo sempre, ovviamente uno di noi è un volontario, una volontaria, quindi mettiamo a disposizione il tempo che abbiamo. Ecco perché è importante essere in tanti e avere anche una organizzazione interna. Chiunque abbia un'ora, due ore di tempo al giorno o la sera, si mette a disposizione e fa quello che c'è da fare. Attraverso GitHub noi abbiamo tutte le azioni aperte, ad esempio c'era fare questo, c'era fare quell'altro e uno vede lì e dà il suo contributo e ovviamente attraverso GitHub traccia il suo contributo, quindi noi siamo sempre aggiornati su quello che fa ognuno di noi. Quindi non si perde nulla e si cerca di ottimizzare al meglio il tempo e l'energia di tutti. Allora, durante questo intervento hai parlato appunto della spesa, le indicazioni che magari offriva la spesa a domicilio, eccetera. Quindi un altro punto fondamentale che è stato toccato però, sottolineamolo, è la geolocalizzazione. Voi lì siete geolocalizzati, infatti quando uno apre il vostro sito trova la cartina dell'Italia con tutti i punti dove siete, eccetera. Sì, sì. Questo è un altro aspetto fondamentale della nostra attività di CVCaking, cioè di mappare mappare quindi tutte le segnalazioni e renderle quindi fruibili, molto più fruibili attraverso delle mappe ovviamente aperte. Quindi chi arriva sul nostro sito può avere consulta la mappa quindi della propria regione, della propria città o anche con un solo colpo d'occhio si rende conto dove sono più concentrate le segnalazioni. E poi abbiamo anche delle mappe regionali e delle mappe anche in base alle categorie delle segnalazioni. Quindi noi abbiamo segnalazioni appunto, ripeto, attività di intrattenimento, online, attività per bambini, servizi solidali pubblici, richieste di aiuto, didattica a distanza, fake news, insomma abbiamo una decina di categorie e quindi ogni categoria corrisponde anche a una mappa. Quindi l'utente può, diciamo, consultare il nostro sito o attraverso la mappa, se gli interessa più arrivare attraverso una geolocalizzazione alla segnalazione che gli interessa, oppure attraverso le categorie tematiche, oppure attraverso i social. Ok, perfetto. Allora, Cristina, grazie per questa bellissima carrellata di tutte le cose che fate, anzi, ti volevo chiedere se vuoi fare un appello, un'indicazione, se vi manca qualcosa che vuoi dire, se vi manca una specializzazione all'interno del vostro team, siete tanti e variegati, però non so, se vuoi fare qualche appello puoi farlo. Grazie, grazie mille. Ci manca soprattutto sviluppatori, cioè nel senso che ne abbiamo, però il lavoro da fare è tanto e tutti loro sono volontari e quindi se c'è soprattutto qualcuno che si intende di web, di sviluppo di siti, di linguaggio dei siti, eccetera, in particolar modo conosce anche la piattaforma GitHub, è benvenuto. Ecco, quindi, e anche nel team della comunicazione, quindi giornalisti, comunicatori, social media manager, però ripeto, l'appello è veramente a tutti, perché secondo me è una cosa che possiamo fare davvero tutti, indipendentemente dall'età, dalle proprie competenze, l'importante è aver voglia di impegnarsi. Ecco, questo. Io vi volevo ringraziare, ho parlato a manetta, spero che sia, purtroppo io sono così, parlo a manetta, spero che sia arrivato anche solo un pochino di quello che ho detto, però, insomma, la piattaforma è lì e chiunque può partire da lì per approfondire e per preparare a conoscerci meglio. Sei un entusiasta, si vede, si vede che ti piace questo lavoro che fai e si vede che proprio te lo senti, te lo senti dentro. Sì, sì, io non so come avrei fatto senza Covid-19 Italia.it, ma anche a superare questo periodo di isolamento, perché a volte anche l'impotenza, no? Cioè di sentirsi impotente, stai a casa, lontano dai tuoi affetti, anche con una preoccupazione rispetto a chi può star male, alle situazioni difficili che abbiamo visto in televisione, e senti di voler fare qualcosa e non sai come fare. Quindi in questa occasione, ancora a maggior ragione, l'attivismo digitale è stato fondamentale. E poi si impara tanto, si conoscono anche tante persone che fanno dell'impegno, insomma, una missione, quindi secondo me è veramente anche uno scambio umano molto interessante, molto bello. Quindi, Silica Eking per tutti, e potete cominciare ora sulla nostra piattaforma con Covid-19 Italia.help. Susanna, aspettano noi. Intanto potete mandare segnalazioni, mandate segnalazioni dai vostri territori, quello che intercettate, usate la nostra form, ecco. Benissimo, Susanna, voleva aggiungere. Sicuramente è molto interessante, sì, no, è molto interessante il fatto che appunto ci sia anche proprio uno staff editoriale dietro, per esempio, che si occupa di verificare le fake news, no, che poi è un po' il lavoro, principalmente dovrebbe essere il lavoro del giornalista, non solo, non in via esclusiva, ma anche. Quindi si capisce che insomma dietro questa piattaforma ci sono competenze molto diverse, molto trasversali, ma anche altissime competenze alte, insomma, delle professionalità alte, oltre naturalmente a questa volontà di impegno civico fortissima che mi sembra la prima spinta, la prima molla che occorre avere in sostanza per buttarsi in questo progetto. Assolutamente. Io insomma faccio loro un grande in bocca al lupo. Io appunto avevo già valutato l'importanza di questo progetto con Terremoto Centro, che conoscevo come piattaforma, e quindi appena ho visto nascere questa, mi è sembrato insomma opportuno dargli spazio e possibilità perché appunto queste persone si raccontassero e raccontassero il loro lavoro da volontari. Grazie, io vi ringrazio a nome di tutto il team di Covid19Italia.elf per questa opportunità, e grazie Stefania, grazie Susanna, e allora ci rivediamo online, ok? Ci rivediamo online, perfetto. Allora grazie davvero a voi per tutto l'anno che fate, ringraziamo tutto il vostro staff, te Cristina che hai rappresentato tutti i tuoi colleghi che lavorate per questa piattaforma davvero importante in questo momento in Italia, e voglio ricordare che siamo andati in diretta sui vari canali social, in Facebook, LinkedIn, YouTube e Twitch, ci trovate su tutti i canali, e poi siamo anche ovviamente su altre piattaforme come Instagram e Twitter, quindi ovunque ci potete trovare potete rivedere questa diretta. Bravissimi, bravissimi. Grazie a Cristina e alla Covid19Italia.help, grazie ancora e alla prossima, ciao, grazie. Grazie, arrivederci, ciao. Arrivederci, ciao.